Le missioni vogliono annunciare l'amore del Signore per noi, far sì che i nostri occhi possano aprirsi e vivere un rapporto di bontà, di amore, di perdono e di giustizia nella novità e nella gioia tra di noi. L'Azzaro a un certo punto è stato risuscitato da Gesù Cristo, però poi è morto, no? Certo. Allora uno può anche dire il nonno che viene guarito dal tumore, dal bambino, è stato guarito e poi è morto. Anche questo, noi, la nostra posizione era di ricerca e volevamo raccontare la bellezza, ecco la bellezza, la bellezza dell'amore, diciamo proprio la bellezza, è una parola che è molto pericolosa perché è abusata, però ogni tanto bisogna dirla. questo bambino è il semplice fatto che ci tiene incredibilmente a delle persone, addirittura ci tiene così tanto da salvarla alla ragazzina che l'ha investito, che l'ha quasi ucciso, una ragazzina improbabile perché molto difficile, aspra, rude, una selvaggia, già questo è un miracolo. Benvenuti a Caritas Insieme, abbiamo iniziato con questa simpatica stralcio di intervista con il regista del Miracolo. Assieme a lui, al tavolo, c'era Giovanni Ventimiglia che è qui con noi in studio. L'occasione che ci ha fatto andare al cinema La Cittadella era l'apertura, l'apertura di un corso universitario che però è uscito dall'università, dalla facoltà di teologia dove Giovanni Ventimiglia, filosofo, insegna. E avete messo in piedi tutto un corso. La prima serata è stata questa serata al Cittadella con il film Il Miracolo. Ma si tratta di portare quelli del cinema a fare filosofia o i filosofi a fare del cinema? Tutti e due, sarebbe molto bello, sì. I filosofi a fare un po' di cinema, a vedere un po' di cinema. I filosofi spesso, io penso che siano un po' piagnucoloni, cioè si lamentano sempre di come va il mondo, si lamentano anche dei media spesso. Televisione no, cinema no, fanno un po' la coscienza critica. Ma sono un po' piagnucoloni e non si rendono conto che nel frattempo, nel frattempo tutti continuano ad andare al cinema, continuano a vedere la televisione e continuano a emozionarsi. Ora io credo che l'emozione sia un veicolo per il pensiero. È difficile capirlo, ma se uno si emoziona, pensa, pensa meglio. Mentre se uno se ne sta appunto soltanto in un'aula universitaria, fa solo piagnisteo certe volte, una coscienza critica a volte sterile. Allora io vorrei portare i filosofi al cinema e vorrei portare quelli che amano il cinema a interrogarsi anche di filosofia, perché ogni film è una filosofia, ha una sua filosofia, che lo voglia o no. Anche quando il regista è inconsapevole, parla di tecnica, di morte, di causalità o del soprannaturale, come ha fatto Edoardo Winspear. Senza poter entrare in tutti i dettagli, tenendo anche conto che purtroppo per chi vorrà partecipare a questa iniziativa due dei film sono già passati. Ecco, ma come mai questa scelta? Ma non posso parlare qui di tutti, ma per esempio Blow Up, che so che lei ama molto. Blow Up è un film bellissimo dal punto di vista formale ed è un film straordinario filosoficamente. Cioè Blow Up non è altro che cartesio, il dubbio metodico. È vero quello che vedo o no? È vero quello che vedo? È un film che parla anche della tecnica, cioè per esempio della fotografia, con uno strumento, cioè con una macchina fotografica o con una telecamera. Vedo meglio la realtà di quanto non riesco a fare ad occhio nudo? Alcuni pensano di sì, altri pensano di no. Se ne potrà parlare. È un film che parla anche della scienza, della nascita della scienza moderna, che ha portato molto scetticismo. Sa quando si è dimostrato che non era la nostra terra girare intorno al sole, ma appunto viceversa. Tanti uomini sono caduti un po' nello scoraggiamento, cioè ma allora quello che vedo, allora non è vero. E Blow Up dipinge tutto questo in pochi minuti, diciamo. È un trattato di filosofia su cartesio, sulla tecnica, sulla scienza. E quindi assolutamente bisogna farlo vedere a tutti perché è un corso di introduzione alla filosofia moderna. Un altro esempio potrebbe essere il mestiere delle armi. Molti dicono è un film lento, un film lento. Sì, è un film lento, ma è lento perché si sofferma in modo delicatissimo su un problema che è il rapporto tra scienza e tecnica, o tra tecnica e morte. La nostra tecnica è uno strumento di morte o di vita? Lì c'è una risposta complessa, perché la tecnica può evitare a un uomo di salvarsi. In questo caso la mancanza della chirurgia. D'altra parte però la tecnica, cioè le armi, sono uno strumento di morte. Allora la tecnica è da condannare o no? E che cosa vuol dire la tecnica? Sono tutte domande che nascono spontaneissime sull'onda dell'emozione dopo aver visto il mestiere delle armi. Ecco, avete per esempio, ne ho qua una copia, ma Arancia meccanica di Kubrick, che è certamente uno dei registi più grandi che la storia del cinema abbia avuto. E' certamente un film che aveva fatto scalpore all'epoca, Kubrick aveva addirittura chiesto di non proiettare più questo film, perché era stato perseguitato proprio... Ah, io non lo sapevo, è interessante. Si era già spostato dagli Stati Uniti all'Inghilterra e aveva avuto grossissimi problemi, perché era uno scandalo che proponesse una visione apparentemente così senza morale. La scelta di questo film è stata combattuta, perché uno poi potrebbe fare scandalo, ma perché no? La filosofia non è evasione, non è lobby della domenica, ma è capire il mondo in cui vivo. Quindi la filosofia è stare dentro, dentro alla nostra storia, e questo è un pugno nello stomaco che ci costringe a capire la nostra realtà. La filosofia è anche come impegno concreto di comprendere chi siamo, e quindi anche il male, e quindi anche la libertà. E poi pensare, ripeto, non è un'evasione, non è la collezione delle farfalle, non è una piccola riflessione così suadente, ma è ricevere un pugno nello stomaco per costringerci a pensare al senso della nostra vita. E il film, e questo film, con questo pugno nello stomaco, ci costringe a fare i conti con la realtà. Per questo mi piace. Bene, che crei un po' di scandalo. Benissimo. Se questo è il prezzo da pagare per ricominciare a pensare con la nostra testa, a pensare al senso della vita, al senso della libertà, ben vengono i film come questi, che tra l'altro è un film formalmente spettacolare. La fantascienza, in fondo, è forse il genere che più propone interrogativi, talvolta interrogativi che spaziano nell'universo, e che rimangono tali, ma dal punto di vista di quello che mi sembra essere evidentemente l'obiettivo, cioè di far riflettere, io credo che la fantascienza sia un genere straordinario per questo. Anch'io lo penso. Per esempio Gatta, che è un altro film, un po' di fantascienza, che ripropone il problema dell'ingegneria genetica e dunque del futuro del genere umano. Io penso che se uno riflette sul futuro, capisce meglio appunto il presente. Ci sono alcuni film di fantascienza che non abbiamo potuto proporre per diversi motivi, ma magari possiamo farli insieme, per esempio Matrix è per ora il classico, Blade Runner potrebbe esserne un altro, Strange Days, ci sono questi film sulla realtà virtuale, un tema che a me piace molto, io sto scrivendo un libro proprio sulla realtà virtuale, filosofico, quindi è un invito a nozze per me, perché immaginare il futuro potrebbe servire a capire quali sono quelle linee essenziali del presente. Questo mi interessa molto, mi interessa moltissimo. E serve anche a rappresentare tante paure, tante paure. A volte i film non fanno altro che mettere in scena paure dell'umanità di oggi. Allora anche il poterne parlare potrebbe servire a sgonfiare queste paure. A volte ci sono rappresentazioni apocalittiche, sta per finire il mondo, poi invece si vede che si tratta solo di una reazione compensativa rispetto al nuovo. Non so allora se arriva alla realtà virtuale, subito un film che denuncia i pericoli, ma poi analizzando il film, appunto in una discussione filosofica dopo, si scopre che si tratta probabilmente di una reazione come i popoli primitivi quando hanno scoperto il fuoco, e dicevano il fuoco rovinerà l'umanità, eccetera, e così adesso la realtà virtuale, il cinema, la televisione, a volte sono visti come ciò che rovinerà l'umanità, porterà l'apocalisse, invece il parlarne può servire a smascherare questa paura e a ridimensionare il tutto, a poter fare i conti in modo sereno, obiettivo, con quello che ci aspetta. Molti dei film, alcuni sono quelli che lei ha citate ed altri, che sono un'occasione incredibile per porsi domande, per percorrere anche strade nuove di riflessione, troppo spesso vengono vissuti come oggetti di consumo. Se da una parte potrebbe essere quasi evidente che questo succeda, dall'altra mi domando come sia possibile perdere un'occasione come questa. Ma è un problema generale oggi, cioè la cultura dell'immagine che emoziona rischia di rendere lo spettatore beato e debete, contemporaneamente. Uno esce dicendo un film bellissimo, magari ipnotizzato dalla forma del film, senza riflettere se le idee proposte sono idee buone, vere o semplicemente idee praticabili. Io cerco di fare il contrario, cioè cerco di far vedere il film e di aiutare a far uscire dall'emozione l'idea, dopodiché ne discutiamo. Oggigiorno, visto che ci sono diverse iniziative, io conosco meglio l'Italia, e le iniziative di Cineforum, a Milano, il San Fedele o anche altre iniziative private come quelle che hanno organizzato allo spazio Oberdan a Milano, hanno avuto un successo straordinario. Al San Fedele c'è una coda che dura un anno per poter entrare. Al cinema Oberdan, a questo spazio, il corso di filosofia e cinema, dunque c'era una coda fuori di almeno un'ora, un'ora e mezza. Quindi vuol dire che la gente è interessata, certamente è interessata. E io credo francamente che, se posso fare una piccola polemica, piccolissima, la gente un po' stufa dei vari critici, i quali fanno spesso semplicemente filologia cinematografica. Cioè dicono questo film si rifà un altro film, quest'altro film si rifà l'altro film, e citano per esempio, per commentare un film, citano altri quattro film. Quindi se chi legge questo articolo non ha letto, non ha visto sette film, non riesce a capire niente. E inoltre è interessante capire che un film si rifà un genere, oppure un altro, che si rifà diversi film. Però la gente è più disposta a parlare dell'uomo o del futuro dell'uomo nella realtà virtuale, che non se Matrix si rifà questo o quell'altro film. Quindi è anche un difetto, secondo me, della cultura un po' cinematografica, che ha acquisito uno stile un po' da ghetto, diciamo. Da ghetto intellettuale per certi versi, ma che esclude delle riflessioni magari che toccano di più la gente. Ecco, cioè nel senso io spero di mettere i partecipanti di questo corso in condizione di poterne parlare dei vari film, anche se non ne hanno visto nessuno prima. Ecco. Perché i temi toccati sono di Persebelli. Dopodiché certo chiameremo anche qualche critico cinematografico, ma per carità che non cominci a dire questo si rifà quello o l'altro, perché è interessante solo per quei quattro che studiano cinema. Ma e punto e basta con questo è. No, questo senz'altro. Quindi portare chi ama il cinema, non tanto a diventare filosofo, a fare della filosofia, ma a riflettere, ecco. Ma nello stesso tempo con tutto quel bagaglio da cui parte questa iniziativa, che è il nuovo istituto che si chiama esattamente... Di filosofia applicata. Ecco, legato alla facoltà di teologia, dove nasce in fondo tutta questa preoccupazione per portare fuori dall'università la possibilità di riflettere su questa forma d'arte. Ecco, qualcosa per capire da dove nasce. Allora, è nato un istituto di filosofia che si chiama di filosofia applicata. Come dice questa parola, si fa filosofia, certamente, ma si fa anche filosofia applicata alla realtà contemporanea. E dunque, all'interno di questo istituto c'è un nuovo bachelor in filosofia applicata, aperto a tutti gli studenti, che ha anche sbocchi poi in altre università. Dunque, gli studenti possono venire da noi, studiare tre anni, questo bachelor, e poi proseguire in altre università. Quindi un modo, tra l'altro, di far filosofia è di trovare lavoro dopo, perché solitamente uno dice filosofia, poi cosa faccio? Invece no, si può venire qui e poi dopo ci sono dei cosiddetti master professionalizzanti, dove noi mandiamo i nostri studenti e dunque dopo possono specializzarsi in qualcosa, quindi fare fruttare questo bagaglio filosofico. All'interno di questo triennio c'è un corso di filosofia e cinema, che è un corso per principianti, per chi vuole iniziare a studiare filosofia. Ecco, è un corso che dà adito a tre crediti, si dice oggi, è tutto a crediti, e alla fine c'è proprio un esame, alla fine chi vuole può sostenere un normalissimo esame, io li potrò interrogare su Arancia Meccanica, Gattaca e sui temi che sono stati proposti. La settimana prossima parleremo di attenzione al terzo mondo, impegno nel terzo mondo dal Ticino, e non solo, è l'anniversario della FOSIT. Buona settimana a tutti. Buona settimana a tutti.